10 5 4 3 2 1 vai destra 5 vai 50 hai il cartello destra 5 piena lascia 70 sinistra 5 70 ritarda destra 4 più credici 50 sinistra 5 lunga lunga dentro stacca dopo 30 tornate destro sì poco 50 destri in sinistra 5 dossata vai 200 sinistri pieni a vista a fine rail sinistra 5 piena 80 a rail 60 poi stacca tornate sinistro chiude dopo destra 5 apre 80 al paletto destra 5 piena 90 al blu ritarda destra 5 tieni 70 sinistra 4 più 20 destra 5 mossa 70 70 70 è partita la macchina porco zio Tati sei bene stai bene ci posso credere a a a a a a a a